Ha puntato la pistola in faccia al rivale in amore, una minaccia che gli ha costata l'arresto. La sera di sabato 17 agosto un 21enne e un 24enne piacentini, entrambi pregiudicati, si erano recati a Ponte dell'Oglio per incontrare l'ex convivente del primo. Il ragazzo era intenzionato a riconquistare la 18enne con la quale aveva avuto un figlio. La giovane invece si è presentata all'incontro con il nuovo compagno. Tra i quattro si è subito scatenato una discussione. Il 24enne ha mostrato di essere in possesso di una pistola, nascosta sotto la maglietta. La conversazione è subito degenerata. Il 21enne ha impugnato l'arma dell'amico, in realtà una pistola giocattolo, e la puntata dritta in faccia al rivale che ha reagito colpendolo con un pugno. La rissa ha attirato l'attenzione di un gruppo di giovani e la coppia di pregiudicati ha pensato di battere in ritirata tornando in città. L'agente del paese che aveva assistito alla lite ha contattato i carabinieri che hanno identificato i responsabili. Per il 21enne affidato in prova ai servizi sociali per precedenti reati, la procura dei minori di Bologna ha disposto l'arresto e la custodia presso il carcere minorile. Il 24enne è stato invece denunciato per minacce aggravate.